Ehi ragazzi, sapete che io non posso iniziare questo programma meraviglioso finché non è entrato in studio il più bello del mondo, dove cazzo è? Carne morta! Forza, prego! Venghi, venghi, venghi avanti il più bello del mondo! Sto lavorando però! Ma infatti, lui è l'unico zombie vivo! Lasciate andare la musica finché non si è accomodato il più bello del piano! Grazie, stai zitto coglionazzo! Mancano le sue cuffie! La popi non ha messo le cuffie! Mettiamo il disco, ci sentiamo tra poco, scusate eh! Agevoli, agevoli lo spinotto maestro! Ah, è pezzo di merda! Guarda, mi fanno i nodi! Mi fanno i merda! Io capisco che tu nutri stima nei confronti di quest'uomo! Stima! Ma che venga accompagnato in studio dalla maschera del cinema mi sembra troppo! Stima! Io ve l'ho già detto, allora io quando devo in qualche modo dimostrare che io rispetto una persona vorrei possederlo analmente! Ecco bene! Io quando stimo tanto una persona, io non so, stimo Robert De Niro, se ti dovessi incontrare ti inculo, te lo dico! Ce lo pianteresti! Ma meno male che ti sto sui coglioni! Oggi ho pranzato col maestro, è stato un pranzo, come direbbero a striscia l'Uculiano! L'Uculiano! Una roba! Posso? Posso? Un attimo che provo, one, two, three, one, two, three, sì! Perfetto! Infatti lui... Sei zitto, comunista di merda, fai parlare quelli giusti! Ce l'ha la faccia da l'Uculio lui! Allora, si sente bene il canale destro e sinistro? Sì, sì, sento bene! One, one! Un attimo che chiediamo, Pippo, come sta uscendo la voce del più bello? Soave, perfetta! Popi, è tutto a posto? Ricevi bene il segnale? Sì, fa comunque schifo! Perfetto! Ottimo, non vuol dire che siamo a posto, ragazzi! Buongiorno! È come buttare il diapason nel culo di un capodoglio, più o meno la sua voce! Ma attenzione, abbiamo Fernando Proccio oggi in studio! Ormai si assomigliano in tutto e per tutto! Ti manca un programma tu dove scalci in studio ed è uguale? Perché, scusa? Soltanto perché ho un leggerissimo abbassamento di voce! Come mai? Ti ho detto che ingoiare faceva male! Tu ieri hai esagerato con il latte di muco! Allora, volevo dire a tutti che oggi... Devi fare hua hua ogni tanto! Cazzo è uguale, però! Sembri Massimo Oldani che imita il gabibbo! Però con questa voce mi chiamiamo, io gli sei ingrifata! Immagino! Devo farlo con un burca con fuori soltanto la bocca! Cazzo, però... Basta non accendere la luce! Perché ricordiamo che quando tu incroci una persona molto brutta tipo Paolo per strada, devi sempre pensare che il buon signore non può essere cattivo! Perché è il buon signore! Se non lo chiamavano... Cattivo signore! Bravo! O, non so, degli altri appellativi legati agli animali! Quello là! Ah, esatto! Allora, il buon signore... Maestro! Ma che fischio! È per dire! Allora, se tu vedi uno brutto o una brutta passare per strada, sicuramente ha delle vellità superiori a quelle che può avere Brad Pitt! Quindi mi sto dicendo che Orticaria c'ha tre metri di cazzo! Può essere! Può essere! Paolo Nois è un mostro! È obiettivamente un cesso di merda! Però senti che voce! Ragazzi benvenuti a RNTL! Il signore ha un pene considerevole! Ma lo so Paolo! Quelle notte passate insieme... Ti spunta dal collo della maglietta! Esatto! Non perché ti stima! Vabbè, siamo pronti? Allora, visto che ieri era la prima puntata, eravamo un po' così di ghiaccio, insomma... Mi sono scaldato, siamo belli caldi! Siamo pronti per un'incredibile puntata dello Zoo di 105, allora colleghiamoci col TG Ricchezza! Sigla di merda! Una roba... E' ricca, è ricca! Aberrante! E di stamane l'incresciosa e catastrofica notizia che vede protagonista una famosa linea di cosi che volano, perché gli aerei sono altri e soprattutto sono privati. Ryanair ha deciso di attivare la tratta Milano-Santropez, scene di panico fra gli ambienti, che vedono la probabilità di incrociare nel proprio scalo privato persone con l'infraditto e le valigie di Carpiese. Le disdette al Nicky Beach si sono già accese. Il sultano del Ramarai ha dato fuoco al proprio autista in segno di protesta, con tre gocce del proprio petrolio. Ma colleghiamoci col nostro inviato opulento, che è già in loco per avere delucidazioni. Ma non dici un cazzo! Sei lì? Sì! Stanco! Si lamentano per i voli coi poveri? Non puoi capire! Non puoi comprendere! Grazie! Ma l'autista del sultano ha fatto tanta luce! Disumano, cazzo! Mi ha spaventato! Urlava! Sì, a cazzo urli! Sei scemo! Ma che notiziaio è! Che notiziaio! È tutto per oggi! E sbogliatezza a tutti! Grazie! Vivo c'è le valigie Carpise! Ma che fai di Carpise è da signore! Ma poi scusa, anche io c'ho la valigia Carpise! Anzi, ne ho prese due! Che cazzo volete? Che le hanno date le pitta rosse in omaggio, no? Trenta secondi!